Leggo da come è stata recensita dalla stampa. La più antica copia manoscritta del Corano si trova in Inghilterra, per la precisione nell'archivio dell'Università di Birmingham. La datazione al carbonio e lo studio della calligrafia utilizzata hanno infatti permesso agli studiosi dell'Università britannica di datare la redazione del testo tra il 1560 e il 645 d.C., ovvero pochi anni dopo la fondazione dell'Islam. Il testo sacro era conservato nell'archivio dell'Università ma non era mai stato analizzato a fondo fino a quando la ricercatrice Alba Fedeli ha deciso, osservando l'antica calligrafia con il quale era scritto, di analizzare al carbonio le pergamene ricavate dalla pelle conciata di pecora o capra. Secondo la tradizione islamica, il profeta ricevette le rivelazioni che hanno dato forma al Corano fra il 610 e il 632 d.C., ha dichiarato David Thomas, titolare della Cattedra di Cristianità e Islam dell'Ateneo. La datazione delle pergamene lascia immaginare, ha concluso il professore, che la persona che ha avvergato le pagine potrebbe aver addirittura conosciuto e ascoltato le preghiere del profeta. Io, quando sono andato e sono restato al Cairo per dieci mesi, due anni or sono, mi sono a fondo occupato del Corano, nella versione fatta in italiano e ho avuto modo di convincermi di un'opera certamente divina. Il Corano, per i cristiani, gode di una cattiva reputazione, ma ci sono degli elementi che riguardano il Corano che lasciano veramente la convinzione che l'interpretazione che oggi è data di questo libro è una interpretazione errata, soprattutto quando ci si rifà al Corano per la guerra santa e per tutte quelle altre questioni di contrapposizioni dure sotto il profilo religioso. Infatti il Corano, che comprende 114 capitoli chiamati surre, obbliga alla ripetizione, prima di ogni capitolo, del primo versetto che fa parte del Corano, in cui è scritto il nome di Dio, il nome di Dio in arabo è Allah, il nome di Allah, il nome di Dio, il compassionevole, il misericordioso. Ora è evidente che se tutti e 113 capitoli che seguono il primo devono leggere la parte che segue il nome di Dio, il nome di Dio compassionevole e misericordioso, anche la lettura di un Dio di tipo diverso deve essere intesa nel nome di un Dio che è un Dio compassionevole, che è un Dio compassionevole e misericordioso, che obbliga a rileggere e rivalutare quelle descrizioni intese terra-terra in modo diverso. Dio compassionevole è la stessa opera fatta dal cristianesimo dal Nuovo Testamento nei confronti dell'Antico Testamento di Israele, perché anche nella Bibbia è descritto spesso un Dio che in virtù della legge autorizza gesti spietati, come per esempio quando sono trovati dei contadini poveri che il giorno di sabato raccoglievano legna che per volere di Dio sono fatti lapidare fino alla morte. Il proposito divino nel libro antico trasmesso da Dio, la Bibbia, di porre in primo luogo e in assoluto la legge, obbliga a sacrificare nei confronti della legge, perfino la vita umana. La stessa cosa accade nel Corano. In virtù della autorità assoluta di Dio c'è la stessa durezza nei confronti di chi viola le cose che Dio rivela necessarie e ordina. Ecco, legge da una parte e comando dall'altra, perché il nome stesso Islam significa comando, ordine, assoluto, sono difesi nei due sacri libri in un modo assoluto che sembra spietato. Ecco, se il Corano non fosse letto nel nome di un Dio di compassione e di misericordia e l'Antico Testamento non fosse letto nello stesso nome di questo Dio di compassione e di misericordia, noi avremmo due testi tanto sconvolgenti da essere posti a giustificazione di atti di atti di vero abuso e soppruso nei confronti di chi o non segua quella legge o non risponda a quella autorità. Ma la mia introspezione nel testo del Corano mi ha convinto personalmente di una cosa che mi coinvolge profondamente. Quando io ho calcolato il valore numerico di Muhammad e lo ho trovato essere lo stesso 66 del mio nome primo romano, quando ho appreso di un Muhammad perfino alfabeta sembra e considero come io stesso considero me stesso un asino che parla solo perché un sapiente con il suo contenuto di divina sapienza opera, in me e mette in bocca a me cose che sono farina certamente che non appartiene al mio sacco. Io vedo delle corrispondenze veramente impressionanti tra Muhammad e chi è in me. avendo letto poi nel Corano che la versione araba del Corano è la prima in cui sono espressi due livelli di segnalazione. uno chiaro, evidente, che traspare nella lettura del testo e l'altro invece più difficile da capire, ma che è da intendere e per farlo occorre trascendere il testo, e allora io mi sono reso conto che nello stesso Corano arabo esiste l'antefatto di un Corano definitivo scritto proprio in quella versione in italiano che ha avuto il seguito del mio commento. Io ho usato pari 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 la traduzione in italiano del Corano fatto da un esperto della lingua. Io non conosco l'arabo. Eppure a me è passo proprio che quel gesto di tradurre, che è stato fatto abbastanza con scrupolo, ma che è andato anche un po' oltre, perché ha introdotto parole che non erano nel testo, però con scrupolo, messe tra parentesi, a indicare la presenza di soggetti sottintesi o altro, che veramente con scrupolo sono state identificate, perché la lettura del Corano è importante per le singole parole, per le singole lettere che vi sono comprese. È un libro indubbiamente di origine divina, perché proprio attraverso l'attenzione riposta a tutti i numeri, in quella versione italiana che è stata possibile ridurre all'osso, ossia togliendo tutte quelle cose introdotte tra le parentesi per far capire il senso del testo, hanno consentito di arrivare a una comprensione più profonda che quella letta secondo quelle intenzioni e quei soggetti introdotti ad arte, secondo la logica solo del traduttore, per come egli ha tradotto il testo. Sfrondato il testo di tutte queste intrusioni di una logica altrui, è apparsa con evidenza estrema la logica proprio insita in tutte le parole, in tutte le lettere che hanno fatto parte del Corano. Alla fine è risultato che è di una importanza proprio speciale, perfino il numero delle volte in cui nel Corano è descritto e scritto il nome di Gesù. Ecco, io ora proprio desidero farvi conoscere tutto quello che io di persona ho visto nel Corano. A cominciare dal suo titolo, io lo ho inteso anziché Corano con Romano e ho edito, e lo potete trovare su issu.com sotto Amoramode, proprio questa rilettura del Corano che ha mutato il suo testo in con Romano. È il Corano con Romano che introduce ora le cose da capire nell'antica versione araba del Corano. Ma io desidero farvi notare tutte queste cose che sono proprio comprese nel testo, ma in quel modo simbolico e allusivo che può essere solo scoperto da chi è condotto con mano a questa scoperta. E nel mio caso si tratta di chi mi conduce di quel contenuto di profonda verità che è nel mio sacco umano che vale come contenuto e non come quel sacco di un italiano che è un isacco, il vero isacco da eliminare, tutto in virtù del contenuto del sacco che aiuti i contenuti di tutti i libri sacri che esistano al mondo. Questa è la copertina della versione del Corano fatta con Romano. In essa potete assistere intanto a due azioni di conversione. La prima è un 99 che convertito l'alto con il basso assume il numero 66. Nella fede islamica fa parte del credo questo credo. Il nome di Allah è composto di 99 nomi quali 100 meno 1 e poi è precisato che sono da comprendere questi 99 nomi. E la cosa da fare è cercare di comprendere proprio la creazione di Allah. Mentre si intende normalmente la creazione fatta da Allah la mia lettura è stata proprio a riguardo della creazione del nome di Dio. Perché il nome Allah che vedete lì in mezzo ai numeri nella parte in alto è come lo vedete nel primo riquadro a sinistra. Ma se operate questa volta sul nome di Allah una visione che rovesci non l'alto con il basso nei numeri ma solo la destra con la sinistra ecco che l'arabo diventa l'italiano in cui la lettura del nome arabo diventa proprio quella italiana di lui. Lui come il nome di Dio è un pronome che tante volte poi è usato nel testo tutte le volte che per non ripetere sempre il nome di Dio a livello di genitivo dativo e non nominativo si dice con lui da lui per lui. Il nome di di Dio quando è reso evidente da un pronome che non sia il nome è proprio il pronome lui in italiano e tra Allah e lui vedete che esiste una cosa che è già presente nel testo tutte le volte che si parla di lui a lui con lui e che si ama o si rispetta lui. Dunque in primo luogo in relazione al nome esistono queste due opere trascendenti una numerica dall'alto verso il basso che ribalta il 99 nel 66 e che immediatamente mette d'accordo l'arabo con ciò che è di cristiano uno e trino perché immediatamente quel 99 che diventa 66 è perché esclude dal suo totale valore il 33 che è la vita del figlio ma la trascendenza del 99 che è il nome di Allah dato da 100 meno 1 diventa poi il nome del padre quando il figlio che è consustanziale è lì presente in quel 66 perché anche rovesciando il 99 e mettendolo sotto sopra sempre quello rimane ma a questo punto resta solo il padre 33 più 33 che trascende il 33 del figlio ma virtualmente lo comprende nel 99 e quindi in partenza vedete che questa tesi evidenziata in copertina presenta in Allah tutte le possibili trascendenze di quanto è rovesciato dall'alto in basso dal cielo alla terra e e di quanto è semplicemente osservato in quel modo speculare che rovescia la destra con la sinistra e ora veniamo al titolo in nero c'è il nome corano e poi ci sono le indicazioni che sono proprie di quel primo versetto da introdurre sempre e che io ho introdotto anche in copertina con tutto ciò che è nascosto in quel primo versetto in nome di Allah il compassionevole il misericordioso questo è il testo per come si legge nelle due righe sotto il titolo corano ma ecco che cosa si può proprio comprendere nel senso proprio di contenere sapete e conoscete in Italia domenica in cosa vuol dire in ecco in presenza inserisci e in en om che sono le prime lettere racchiuse lì in quella cornice rossa è all'uso inserisci en om e inserendo en e om in quel nome di corano il co diventa con e l'om inserito fa di rano romano è la stessa azione che accade nel capo degli dei il padre urano quando proveniente da ur e gli pure ma non l'ur della caldea ma l'ur diventa u romano esso pure per non parlare poi di saturno che diventa un tu di sa salerno rno in cui in rno che è la conclusione di saturno oltre a om c'è anche la a che è omessa ora sapete bene che muhammad di cui non sapete che la lettura cabalistica fatta in italiano lo pone proprio in essere con quel numero 66 del profeta di quel 99 fa di un muhammad un nome che è tradotto in italiano in ma ometto e nasconde ma io ometto e che cosa omette il ma ometto omette om proprio ma ometto omette om ma ma introduci en e quell'om che è omesso e rano diventa romano la lettura con romano è autorizzata proprio per il fatto che in en om poi si completa con questa affermazione è di allah che cosa il nome quando introduci la en e la om il nome è di allah il ci il cristo il creatore om uomo proprio quell'uomo che è omesso in ma ometto om uomo pa ss padre santo si la parte del compassionevole nasconde in il compassionevole il cristo uomo padre santo sion è 5 romano o 50 romano è poi la frase finale il misericordioso diventa tutto un vero programma trascendente perché si legge in modo chiarissimo io so io so che ora il misero gesù cristo è dio ecco che cosa è trasceso nel corano titolo generale del libro sacro e nel primo versetto quando il primo versetto introduce il suo effetto anche nel titolo ed è introdotta la en e la om tanto che con romano è il nome di allah il quale è il cristo uomo padre santo sion è cinque romano o 50 romano è il misero gesù cristo ora io so che è dio ecco a questo punto vi rendete presente che in quel versetto che io vi ho letto e che dice in nome di allah il compassionevole il misericordioso è nascosto tutto questo che io non certo per la mia capacità ma per quel dono del contenuto che riesce a uscire dal mio misero sacco contenitore proprio grazie al fatto che io tolgo di mezzo questo isacco questo sacco italiano tutto a vantaggio del contenuto è un contenuto che rende il corano finalmente un libro scritto con romano e interpretato con romano ora io non sto qui a leggervi tutto il libro lo potete trovare su questo titolo tra i vari libri che io ho pubblicato su issu.com rischiando la vita lì mentre ero ospite in un albergo e per dieci mesi a cairo quando io ho presentato questo libro in fotocopia mentre mi confessavo a un sacerdote della chiesa del sacro cuore di gesù a cairo e gli mi ha detto non pubblicarlo qui siamo in difficoltà con l'islam e questo introduce una lotta in più io ho sostenuto che era mio compito di cristiano a valorare il cristo nella lettura del corano e dunque era la mia missione compiuta a rischio di morte e egli allora mi ha detto va bene pubblicalo pure se lo credi necessario però non farti vedere più in questa chiesa del sacro cuore di gesù perché c'è il timore che nel tentativo di colpire te poi colpiscano anche qualcuno che viene in questa parrocchia e che di quello che tu stai facendo non è minimamente consapevole e dunque non può nemmeno risponderne come ne risponderebbe se patisse degli effetti negativi in virtù dei tentativi fatti contro di te per ucciderti ecco io lo pubblicai su questo sito e ci sono stati molti che lo hanno letto questo libro ma non fui ucciso quando feci conoscere alla cattedrale che al cairo è tenuta dai francescani e io andavo lì che nella chiesa del sacro cuore mi avevano pregato anzi comandato di non frequentarla più e chiesi se per caso anche essi avevano paura di essere coinvolti il frate francescano cui io avevo mostrato il corano e che ne aveva presi in visione ampi quantitativi in numero di pagine mi disse no no vieni pure qui non c'è niente da temere e a questo punto io per fortuna trovai almeno una chiesa lì che potessi seguire per seguire la messa alla quale io non manco mai la domenica e per quelle confessioni e quelle comunioni che io assumo non disdegnando io quando mi sento il colpa di inginocchiarmi davanti a un uomo come me che per scelta divina ha avuto il compito e la possibilità di rimettere i miei peccati io so che compio peccati non mi credo uno senza macchia e senza colpa ma io quando sono così lo sono perché sono il sacco contenitore di un contenuto divino che con il sacco non c'entra proprio nulla tanto che questo è il vero isacco da eliminare come dio disse ad abramo quando gli chiese di uccidere l'isacco anche io uccido veramente me stesso quando mi tolgo di mezzo come individuo vivente tutto a vantaggio di un contenuto divino che ampiamente travalica la mia specificità di soggetto vivente ma vi leggo che cosa ne ho scritto nell'appendice non facendo parte del con romano in cui io ho fatto poi dei computi mettendo in luce tutte le parole tutte le lettere e alcune parole particolari come il nome di gesù e altro leggiamo che cosa ho scritto nella veste del personaggio avente il nome di romano antonio anna paolo torquato amodeo ritengo doveroso farvi alcune precisazioni non ho visioni non cado in stati di esaltazione nei quali credo che dio mi stia parlando la sola espressione di dio che io abbia sta nel senso di amore reale per me che in certi momenti sento addirittura fisicamente dunque questo testo del con romano non è stato scritto sotto dottatura o in una condizione di reale alienazione sta di fatto che alla è veramente me e non può sentirsi fuori di me l'uomo in me che vive e scrive è un puro riferimento alla vita divina e lo è in un corpo fatto di carne dunque nel mio corporeo essere proprio il riferimento della sua presenza non posso sentire dio al di fuori di me ciò anticipato per onestà e senso di verità e di chiarezza ritengo doveroso anche questa finale appendice al con romano che volutamente ne fa parte non ne fa parte perché entra a giudicarlo in tutte le sue parti dall'esterno dopo la prima stesura io in veste del personaggio romano modeo ho chiesto indicazioni al computer circa il numero delle parole e i caratteri la discordanza di interpretazione tra le mie valutazioni quantitative e quelle del calcolatore ci sono e dipendono dal fatto che il computer considera parola in sé in se stessa ogni carattere o segno di interpunzione che sia seguito da uno spazio nel mentre invece due parole legate tra di loro dall'apostrofo sono considerate una sola parola per la mia valutazione invece l'espressione apostrofata di l'uomo sono due parole anche se legate insieme da quel segno solo per ragioni di sonorità e non di contenuto infatti le vocali finali a e i o ed u entrano solo a fissazione della parte precedente la a finale ne afferma il possesso in termini di principio la e ne conferma l'essenza la i evidenzia tutto il percorso reale insito nella parola la o rimanda ad un possesso personalizzato soggettivo e infine la u rivela il compimento tale di un termine da mostrarlo proprio come un terminale testa coda o svolta ad u che spariscano questi attestati di valore non sparisce il valore essenziale di ogni singola parola ultimato dunque il libro e chiesto comunque al calcolatore il numero delle parole computate a suo modo e il numero dei caratteri ho visto fissato il valore della divina provvidenza che mi guida in 2772 1500 caratteri allorché mi sono accorto che queste pure battute corrispondevano nelle centinaia assolute ai 27.725 giorni di vita esistenti tra la mia nascita il 25.1.38 e il 23.12.2013 in cui sarebbe finita con una sua triplice resurrezione durata solo pochi secondi la vita di mio padre luigi amodeo nato il 777 e morto il 56 1983 passò a miglior vita 33 giorni esatti prima che compisse i suoi 76 anni corrispondenti a 38 più 38 al libro di genesi capitolo 38 in cui è descritto come primo nato non un bimbo ma la sua sola parte di un braccino e di una mano lo stesso braccio che mio padre durante una paralisi totale sollevava e teneva sollevato senza nessuna ragione che potessimo dedurre né noi né i dottori il termine stesso di musulmano si manifesta così anche se nel corano arabo questo dettaglio che appare solo nella torà non è stato riportato esso nasce da quel msl salam uguale 38 più u uguale 19 più 19 uguale 38 che si aggiungono al 38 unitario esistente in 37 unità espresso dal termine di una mano laddove la trinità del 38 è poi data dal 38 più 38 più 38 uguale 114 numero esatto 114 di tutte le sure del sacro corano il computer dava anche 495 mila parole circa io volontariamente le ho bloccate a 495 mila e 8 per far tornare tutti i conti alla perfezione infatti un duplice dio uguale 26 dunque un 26 più 26 uguale 52 ha provveduto alla perfetta divisione riservandosi 52 caratteri dei 495 mila e 0 0 8 a divide e dividendone i 49 99 mila no i 494 mila 956 corrispondenti ad un 7 per 7 per un creatore seguito da un altro 7 per 7 in quanto padre ma anche spirito santo un divino duo che era il padre di un uomo uguale 56 a conferma della perfezione di tutto ciò dividendo 495 mila e 0 8 per 52 si ottiene un uomo uguale 56 nel valore medio di ogni parola per come essa è computata dal computer con sesto 52 così misi su issu.com la prima versione quindi mi sono accorto di lacune ed errori alcuni dibattitura altri di forma che necessitavano di essere corretti ho bloccato le quantità a queste che erano state definite ideali dalla divina provvidenza che assorbiva virtualmente gli errori per le parole apostrofate considerate una sola con i caratteri qualsiasi seguiti da uno spazio considerati come parola agendo a quel punto volontariamente sul testo modificato ho combinato le cose in modo che i caratteri contati dal computer e le parole restassero immutate nel loro numero ultimata anche la correzione introdotto l'indice delle pagine e tolto parti sostanzialmente superflue mi sono dedicato alla osservazione delle quantità che alla ha voluto fossero fissate senza l'apparente concorso apparente a me della mia volontà esecutiva in questi numeri consapevolezza che invece ho avuto in relazione alle quantità delle parole e delle battute io senza minimamente rendermene conto ho scritto un certo numero di volte i vari nomi che compaiono nel con romano nel corano arabo gesù figura nominato 25 volte esatte a voler sottolineare genesi 25 mentre il nome di mosè è citato ben 135 volte a sottolineare il piano 100 del 7 per 5 il creatore che è il nome divino alla che esprime una mano a 5 quando ciascuna crea in 7 giorni tanto che con 35 per 35 uguale 1225 il piano divino incarna anche il figlio gesù il mese 12 del giorno 25 gesù contato per le volte che io invece ne ho scritto in il nome nel con romano è risultato citato esattamente 1385 volte vi devo spiegare perché perché io non solo ho tradotto il corano ma ho aggiunto anche tutte le mie indicazioni nelle quali ho parlato di gesù citando nel nome per cui il nome gesù nel corano che è nella versione di romano che comprende anche le note il nome di gesù è citato 1385 volte il che lo pone come il 5 delle cifre di alla in quel divino 10 che trascende 0 1 quando è riferito esattamente al libro 138 della sacra bibbia romano il primo nome mio assunto da alla è stato voluto dalla divina provvidenza espressa da alla stessa ripeto quella che mi ha fatto fare poi questa versione per 2611 volte che in 11 esprime l'unità sesta di romano uguale 66 nel primo nome mentre nelle centinaia assolute esiste espresso il 26 di anna terzo nome che è uguale al nome dio dato in occidente ad alla e preciso a tetragramma di yahweh in valore cabalistico in ebraico romano amodeo risulta scritto in queste due parole abbinate 339 volte quelle del 333 più 3 più 3 esprimente un piano al lato 3 per flusso 333 vi assicuro non l'ho fatto ma è venuto apposta ma è venuto così e chi lo ha realizzato se non dio che mi ha portato a scriverlo per queste volte amodeo è nominato da solo come cognome 1144 mille e 144 volte esatte e riguarda 1111 più 33 la vita del padre uno nella sua dimensione una e trina sommata alla vita del figlio luigi amodeo la coppia dei due nomi insieme è il padre reale di romano in cui alla si è collocato in realtà e figura nominato 199 volte nel pieno rispetto del piano dei cento nomi in cui il nome di allah deriva da 100 meno 1 per quanto espresso nel credo islamico tutte queste quantità non sono state prefissate da me romano amodeo quale il personaggio scrivente queste note e il reale compositore di tutto il con romano esse sono opera della divina provvidenza che ha anche disposto alla pagina giusta ogni argomento trattato infatti alla pagina 26 uguale dio è inserito il sacrificio della giovenca indicante il mio personaggio in questa vacca che dà il titolo anche alla sura numero 2 così alla pagina 30 uguale alla il versetto 101 uguale luigi amodeo 54 nel nome luigi più 47 nel cognome amodeo narra dell'arrivo del messaggero alla pagina 66 c'è il versetto 66 e tutta la verità e le polemiche sorte su quella portata da romano alla pagina 100 ci sono i versetti 99 e 100 in cui si dibatte sul valore assoluto di allah la sura 47 su muhammad è finita alla pagina 364 della realtà divina 6 per 6 in tutta la sua realtà una e trina alle pagine 166 266 366 sempre il tema è il 66 uguale romano uguale muhammad ma tutte le estrinsecazioni sono state collocate dalla divina provvidenza alle pagine esatte infatti come per il sacro corano in arabo anche questo con romano è senza ombra di dubbi un libro divino che va ben oltre la volontà e la consapevolezza dello stesso personaggio che lo scrive questo accadde a muhammad quando dovette scrivere cose che nemmeno capiva e si è ripetuto nella sua reale parusia come avete avuto modo di leggere in questa che io ho ritenuto doverosa appendice la scrittura di questo testo che comprende la versione non fatta da me del corano in italiano più tutto quanto il commento ha espresso proprio i nomi in un numero idealmente indicativo che nel corano arabo il nome gesù figuri 25 volte quando è in genesi 25 che appare proprio in bibbia il nome gesù creato con la g di giacobbe davanti al nome esau a cui è tolta una a e dunque la bibbia introduce il nome gesù al capitolo 25 il corano inserisce il nome gesù per 25 volte e tutte le altre quelle in cui io ho introdotto quel nome sono proprio nel numero preciso perché che io abbia scritto il nome gesù oltre quelle 25 per un totale di 1385 volte laddove il 138 indica anche il gennaio 38 della mia nascita come il numero 5 di quelle dita che nacquero in genesi 38 e che nel valore cabalistico del mio nome sono quello 831 che ribalta il 138 cioè 831 è e diventa 381 nel valore cabalistico del mio nome il 5 non fa parte dell'unità data dal 10 per cui il 138 che esprimendo le decine è il valore unitario quando chi è primo si deve mettere in fondo diventa 381 e 381 sono esattamente i valori di tutti i 36 valori espressi in lettere nel mio nome più le 6 lettere vuote che portano il mio nome alle 42 cifre del nome segreto di dio e il nome segreto di dio per quanto risulta proprio da questo con romano in romano nome è di allà il creatore uomo padre santo sion e 5 o 50 romano e il misero gesù cristo ora io so che è dio l'altro Grazie a tutti